il giornalista brasiliano pepe escobar e il filosofo e storico russo alexander dugin ospiti del canale new rules parlano del vertice brics che ha iniziato oggi a kazan in russia dugin spiega come il progetto brics sia la concretizzazione di una realtà più ampia e complessa come quella del multipolarismo quest'ultimo è un processo emergente che sta gradualmente agglomerando tutti quelli che non accettano più l'egemonia dell'unipolarismo e non si tratta di un processo meramente economico dietro ogni modello economico sottolinea dugin c'è una filosofia una ideologia e il multipolarismo in realtà è una ideologia essa concepisce il mondo come un sistema di rapporti reciproci in piano di parità e non necessariamente guidati dai principi capitalisti e protestanti delle elit occidentali di fronte a questa realtà emergente il mondo unipolare cerca di mantenere la sua egemonia e lo fa in un modo disperato come vediamo in ucraina e nel medio oriente anzi l'occidente è così offuscato che tende a vedere questa tensione in corso tra unipolarismo e multipolarismo in termini puramente militari e così si prepara follemente a una guerra contro la cina per la questione taiwan e a una guerra anche essa imminente contro la russia di fatto il mondo politico e militare neocom considera che lo zoccolo duro della nato ormai consista oltre agli stati uniti in gran bretagna polonia paesi scandinavia i chihuahua baltici cioè quelli che washington ritiene più affidabili per aprire un fronte di guerra con la russia secondo pepe escobar la turchia malgrado disponga del secondo esercito più numeroso della nato non è più vista come un membro particolarmente importante all'interno dell'alleanza sicuramente per la sua poca disponibilità a partecipare a una eventuale guerra aperta contro la russia e di questo vuole approfittare erdogan per aprire gli interessi del suo paese all'eurasia dove c'è un numero considerevole di paesi storicamente vicini alla turchia questa è la ragione per la quale pur rimanendo un paese membro della nato la turchia ha presentato la domanda di ingresso nei brics a questo riguardo dugin pone l'accento sull'importanza del fatto che la in teoria seconda potenza militare della nato si unisca alle strutture del multipolarismo per dugin la mossa della turchia è un'ulteriore dimostrazione che i brics ormai rappresentano il futuro un nuovo sistema mondiale al quale vogliono aderire sempre più paesi pepe escobar conclude analizzando la questione principale del vertice brics che si tiene in questi giorni cioè quella della creazione di un sistema internazionale di pagamento alternativo al dollaro escobar riconosce che non sarà un processo veloce e che la sostituzione reale del dollaro potrebbe richiedere decenni tuttavia questa sostituzione anche se in modo molto graduale si sta già verificando ed è precisamente il carattere insidioso di questo processo che lo rende ancora più pericoloso per l'occidente e per l'europa in particolare un declino politico culturale e finanziario che si trascinasse per qualche decennio avrebbe delle conseguenze profonde che come ha recentemente dichiarato putin potrebbero minare le fondamenta dell'attuale mondo euro atlantista per tutto ciò che resta di questo secolo